Nella corsa, oggi più che mai, l'utilizzo della frequenza cardiaca è diventato uno strumento fondamentale per il runner. Conoscere la propria frequenza cardiaca durante l'allenamento permette di rendere l'attività molto efficace. Questo a patto di conoscere le basi dell'allenamento con le zone di frequenza cardiaca, argomento che tratteremo insieme in questo video. Prima di parlarti delle zone di frequenza cardiaca ci tengo a fare alcune premesse. Utilizzare la frequenza cardiaca per gestire l'intensità invece ad esempio della velocità, come può essere il passo al chilometro, ci permette di tarare l'allenamento in base a fattori come lo stress, il carico di allenamento, i fattori atmosferici e il riposo. Grazie appunto alla frequenza cardiaca saremo sempre in grado di gestire la corretta intensità. Altro aspetto da tenere in considerazione riguarda lo strumento di rilevazione. Ti ricordo che ad esempio la frequenza cardiaca rilevata al polso nella corsa non è molto attendibile. Per questo motivo se vuoi lavorare in maniera precisa è meglio affidarsi a una fascia cardio di rilevazione al torace oppure a una fascia magari al braccio. Se ancora non possiedi una fascia cardio e non sai quale scegliere ti consiglio di vedere il video youtube che abbiamo fatto su questo argomento. Infine ci tengo a ricordare che esistono diverse scuole di pensiero riguardo alle zone di frequenza cardiaca. C'è chi privilegia tre grandi zone, chi invece preferisce utilizzare fino a sette zone di rilevazione all'intensità e chi come me preferisce utilizzare le classiche cinque zone di rilevazione della frequenza cardiaca. Personalmente ho sempre utilizzato la suddivisione in cinque zone cardiache. Questo sostanzialmente per due motivi. Il primo riguarda la strumentazione perché tutti i più conosciuti strumenti di rilevazione della frequenza cardiaca, ad esempio di Garmin, Polar, Sunt, utilizzano questo tipo di suddivisione. E il secondo motivo è anche perché reputo cinque zone sufficientemente precise per gestire l'intensità senza impazzire troppo nel dettaglio. Bene, ora dopo le dovute premesse partiamo dalle basi. Per utilizzare le zone di frequenza cardiaca nei nostri allenamenti dobbiamo conoscere la nostra frequenza cardiaca massima. Per trovare questo dato abbiamo due strade. La prima è quella di utilizzare una formula matematica che considera l'età del soggetto. L'altra è attraverso un test da campo, test di laboratorio massimale. Vediamo i vantaggi e gli svantaggi di entrambi i metodi. Esistono molte formule teoriche per stimare la frequenza cardiaca massima di un soggetto. Dal classico 220 meno l'età fino a formule più evolute e a mio avviso leggermente più affidabili come la formula di Tanaka, dove la frequenza cardiaca massima è uguale a 208 meno 0,7 per l'età. Purtroppo queste formule teoriche spesso non si rivelano attendibili, in quanto c'è una grande variabilità anche tra soggetti della stessa età. Per questo motivo consiglio di utilizzare questo approccio teorico solo a principianti, che non possono ancora permettersi di correre diversi minuti ad un'intensità massimale. Mentre ad atleti evoluti consiglio sempre di utilizzare un test massimale per ricavarsi in maniera molto precisa la frequenza cardiaca massima. Esistono diversi test, ad esempio come il test con Coni, test di Cooper e il test del Vodue Max. Ad ogni modo in tutti questi test si cerca di raggiungere la massima intensità sostenibile, che molto spesso corrisponde o si avvicina alla nostra frequenza cardiaca massima. Prima di proseguire parlandoti di tutte le zone di frequenza cardiaca, se ti sta piacendo questo video ti chiedo di mettere un mi piace e di aiutarmi a condividerlo con i tuoi amici sui tuoi canali social. Abbiamo creato questo video per festeggiare i primi 5.000 iscritti al nostro canale YouTube. Se sei già iscritto, un sentito grazie. Se non l'hai ancora fatto ti consiglio caldamente di iscriverti, così da far crescere rapidamente questo canale e aiutarci a raggiungere il nostro prossimo obiettivo, ovvero quello dei 10.000 iscritti, dove prepareremo una grandissima sorpresa. Non esiste una formula esatta per individuare con precisione tutte le zone di frequenza cardiaca, a maggior modo se non si utilizzano dei test scientifici in laboratorio. Dopo anni di ricerca e applicazione sugli atleti che si sono affidati al nostro servizio di coaching, voglio condividere con te le percentuali che reputo più attendibili. Partiamo dal basso. La zona 1 prevede un'intensità che va tra il 50 e il 60% della nostra frequenza cardiaca massima. In questa zona troviamo le attività quotidiane a bassa intensità, come ad esempio il camminare, lo stare in piedi e il muoversi. Solitamente questa zona non viene presa in considerazione dagli atleti, in quanto allenare la zona 1 è molto complicato e richiede tantissimo tempo. Una persona attiva nella quotidianità si troverà a sfruttare questa intensità per moltissime ore rispetto a una persona sedentaria e otterrà notevoli benefici. Non è infatti un caso che uno dei segreti degli atleti africani è proprio dovuto all'attività quotidiana. Tutte queste ore di movimento non faranno altro che rafforzare e migliorare il loro motore aerobico. La zona 2 va tra il 60 e il 75% della FC Max. A questa intensità si massimizza il condizionamento cardiovascolare, si velocizza il metabolismo e si migliora l'efficienza energetica. È consigliabile investire in questa zona per costruire una solida base aerobica e anche quando si ha necessità di perdere peso. Nella zona 2 rientrano i cosiddetti allenamenti di recupero e gli allenamenti di costruzione della base aerobica. Passiamo alla zona 3 che permette di aumentare la capacità aerobica, ritardare la fatica, aumentare la capacità polmonare e rafforzare il sistema cardiovascolare. L'intensità della zona 3 va tra il 76 e l'85% della nostra frequenza cardiaca massima. Questa intensità è fondamentale per migliorare la resistenza generale e per preparare gare di media e lunga durata. In questa zona cardiaca rientrano gli allenamenti di fondo, gli allenamenti lunghi, le temporane aerobiche e alcuni allenamenti intervallati. Gli allenamenti zona 4 permettono di aumentare la tolleranza all'attato, così da migliorare il passo di soia aerobica e la resistenza alle alte velocità presenti nelle gare di breve e media durata. In generale consiglio di impostare questa zona tra l'86 e il 93% della FC Max. Questa è l'intensità dove facciamo la maggior parte dei nostri lavori di qualità, come ad esempio le prove ripetute, i lavori intervallati e i lavori a ritmo gara. Ricordo che è fondamentale utilizzare questa zona con moderazione, in quanto gli allenamenti effettuati in zona 4 possono richiedere fino a 72 ore per essere assimilati. La zona 5 è la zona di massimo sforzo cardiaco. Gli allenamenti in questa zona sono orientati al miglioramento della velocità massima e del VO2 Max, ovvero il massimo consumo di ossigeno. Essendo una zona ad altissima intensità andrebbe fortemente limitata, soprattutto se non si è adeguatamente preparati a gestire un ritmo massimale che potrebbe portare a stress e ad infortuni. In questa zona di allenamento rientrano attività come l'HIIT, i test massimali e alcune prove ripetute. Un concetto a mio avviso fondamentale per capire l'utilità delle zone di frequenza cardiaca è la piramide dell'allenamento. Per gestire un qualsiasi allenamento si utilizzano due parametri che sono inversamente proporzionali, ovvero la durata e l'intensità. Più l'attività sarà intensa e minore sarà il tempo per cui riusciremo a sostenerla. Al contrario, più l'intensità sarà moderata e più riusciremo a sostenerla nel tempo. Pensa ad esempio ad una camminata o ad un'attività di trekking. Negli sport di resistenza, come ad esempio la corsa, è stato dimostrato che l'allenamento aerobico deve avere un peso prevalente. Considera che mediamente circa un 80% del volume di allenamento totale di un atleta di elite è formato da attività a bassa e moderata intensità. E solo un 10-20% in base alla disciplina e al periodo supera la soia anaerobica. Al giorno d'oggi, nella stragrande maggioranza degli amatori, c'è ancora la convinzione che per migliorare basti allenarsi e fare fatica. Come ti sarai reso conto in questo video, dietro all'allenamento c'è molto più di questo. L'allenamento sportivo è diventato una scienza, grazie anche alle moltissime ricerche scientifiche che ci hanno permesso di comprendere i risultati e gli adattamenti fisiologici dei vari protocolli di allenamento. Non è facile fornire una guida che possa essere valida per tutti i tipi di atleti. Ogni soggetto ha le sue particolarità e obiettivi differenti. Tuttavia, abbiamo creato una guida con delle linee guida generali che possono essere applicate alla tua preparazione. Per riceverla, segui le istruzioni che troverai nella descrizione. Ti ricordo la possibilità di scrivermi nei commenti per farmi sapere se hai apprezzato questo video e se hai eventuali domande da farmi. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao! Grazie!